Com'è la scovigia? Alla scovigia? Grazie. 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 R Streaming! Roch! 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 qui! qui qui! Mò si!" Che terrifying! YESSBB!!!! Yes! Bra, gente! Du è veramente fin! Ja, ja! Du è veramente fin! Oioioioi, va bra du è! Tyggtig, köperfin! Bra! Tyggtig! Tyggtig, gente! Bra! Ah, flottiente, ma bra du è! Tyggtig! Tyggtig! Yip, 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 yip!